Daniele Sottile è una partita dai mille volti, diciamo così, quella contro Molfetta. Prima meglio Latina, poi pareggio, poi nuovamente Latina. Alla fine è un tie-back tutto sommato senza storia. Sì, noi abbiamo perso l'occasione, la grande occasione nel quarto set perché eravamo avanti 18-15. Però bisogna dare merito anche a loro e io direi anche a Sabi. Perché credo che in questa partita poi alla fine, alla lunga, abbia fatto la differenza. E bravo lui perché sta facendo un grandissimo campionato, brava Molfetta. Peccato per noi perché abbiamo sprecato una bella occasione. Però qui è sempre un campo difficile, ma dove credo sia sempre bello e splendido giocare per l'affetto della gente che ha nei confronti della squadra, ma anche della squadra ospite. Cosa è mancato alla Top Volley in quei momenti chiave della partita? Ma è mancato che Sabi abbia andato in battuta e ha cambiato la partita. Sì, forse abbiamo avuto una o due occasioni dove potevamo metterla giù e cambiare subito. Non ci siamo riusciti e poi ha preso il ritmo. E peccato, finita lì.